10 Perkejob, 11 Nichelia, rapporto di scuderia tra i numeri 5 e 6. Buono lo schieramento, tutti a rete quelli della prima fila. Stacco della macchina, sono veloci, Pensilvania Gio, Oderzo, poi anche Odino Alca che scende alla corda. Quindi Odino Alca davanti all'Arabo, di fuori è rimasto Papaglione. Vediamo che Pensilvania va all'attacco di Odino Alca che però vuole correre al comando. Se coda quindi secondo, Oderzo, veloce il primo quarto in 14-3. Odino Alca in vantaggio su Pensilvania Gio che insiste a largo, Oderzo lungo la corda. Poi vediamo partita forte anche Perkejob, anche Nichelia in terza ruota che avanza 29-7 il primo quarto. Progredisce sempre Nichelia, ora cerca di scavalcare Pensilvania Gio per portarsi direttamente a ridosso di Odino Alca. Intanto siamo arrivati ai 600 metri, percorsi in 45-6. Passaggio davanti alle tribune con Odino Alca in vantaggio su Nichelia. Pensilvania Gio di fuori, poi anche Papaglione Cam di fuori dalla partenza. Prende la via del largo anche Nancy Streb, si mantiene secondo sempre Oderzo, giro in un minuto e 7 decimi. 15-1 la frazione davanti alle tribune. Mantiene sempre il ritmo svelto Romolo Sani con Odino Alca, Oderzo in seconda posizione. Nichelia sempre di fuori, si gira Antonio Greppi, controlla che non arrivi nessuno. Intanto il chilometro è 1-16-8. Sempre di fuori Pensilvania Gio davanti a Papaglione Cam di fuori. Viene ripetuta la squalifica per Original Font che comunque è in coda al gruppo. Ora frazione delle scuderie sempre in controllo da parte di Odino Alca in 15-4. Ancora tonica di fuori Nichelia. Poi vediamo avanzare dalle retrovie anche Nancy Streb che però viene anticipata da Papaglione Cam. Siamo a 250 metri dalla conclusione. Sempre Odino Alca in vantaggio. Avanza grandi folata Nancy Streb in quarta ruota anticipata da Papaglione Cam. 200 metri dalla conclusione, retta d'arrivo. Odino Alca cerca di difendersi da Nichelia. Poi si butta di dentro anche Oderzo. Ed è Oderzo che ha le energie più fresche e viene a vincere nettamente Oderzo su Odino Alca. Mentre terzo posto per l'Arabo davanti a Nichelia. Quindi bella vittoria per Oderzo con Andrea Farolfi che viene a vincere. Alla fine la scuderiera, la favorita, la quota di 2-17. Il training è quello di Andrea Sarzetto. Il secondo posto per Odino Alca che se l'è giocata davanti mentre un buon Larabo coglie un buon terzo posto davanti a Nichelia.